Dalla bottiglia di plastica, spesse volte abbandonata dove capita, ad una maglia di calcio. È quella che proverà a far indossare ai propri giocatori il crotone. La peculiarità del capo, spesso ricercato dai tifosi, risiede nel materiale utilizzato per la sua realizzazione. Si tratta di poliestere 100% che si ottiene riciclando 12 bottiglie di plastica. Il PET viene raccolto e poi trattato fino ad ottenere un filato utile per realizzare la maglia. Tutto nasce dalla collaborazione tra il Polo NET Calabria e Corepla e l'iniziativa fa parte del progetto educativo Da un mare di plastica a un mare di risorse, avviato nel luglio 2020 per sensibilizzare i più giovani e prevenire l'abbandono dei rifiuti in mare e sulle spiagge. Il crotone si fa quindi portavoce di un forte messaggio nei confronti dei propri tifosi e dei simpatizzanti che seguono la squadra del presidente Gianni Vrenna. Quella con la società pitagorica è una partnership importante per Corepla, afferma il presidente Giorgio Quagliuolo, perché nasce dalla scelta forte del club di dare un contributo concreto ai temi della sostenibilità ambientale. Una scelta green che speriamo possa essere seguita anche da altre società sportive. La nostra società, commenta Vrenna, è da sempre sensibile ai temi ambientali e ogni mezzo è utile per promuovere una sana cultura di sostenibilità. Noi lo facciamo attraverso il calcio, cercando di coinvolgere i nostri tifosi, ma anche la gente comune. La partnership con Corepla e Crotone per la promozione del progetto Da un mare di plastica a un mare di risorse è per noi motivo di grande orgoglio, afferma Luigi Borrelli, presidente del Polo Ambiente e Rischi Naturali della Regione. La promozione di una sana cultura ambientale è una nostra fondamentale linea di azione.